Siamo qui insieme per parlare un attimo della situazione che l'emergenza coronavirus sta determinando nell'ambito del Comune di Vergato e poi un po' più in generale nel distretto dell'Unione dei Comuni della Penino Bolognese. Per quanto riguarda l'applicazione dei decreti ministeriali, l'ultimo è uscito ieri sera come ben sapete tutti, ovviamente sono indicazioni sempre più stringenti in quanto l'evoluzione dell'emergenza del virus si sta espandendo a delle aree di mitrofe alle nostre, nell'ambito del Comune di Vergato nello specifico non abbiamo casi di positività e nell'ambito del distretto sociosanitario abbiamo due casi che sono seguiti e monitorati dall'ASRE. Quindi l'emergenza in assoluto non ci tocca in maniera diretta, però ovviamente bisogna assolutamente seguire e applicare le norme che vengono emanate per la nostra tutela. Le norme che vanno anche capite, qua nessuno sta cercando di limitare la libertà dei cittadini ma si sta cercando esclusivamente di salvaguardare il diritto alla salute di ognuno di noi, dei nostri cittadini e in generale proprio dell'Italia intera. Per quanto riguarda ovviamente le norme sono in continua evoluzione e questo è importante dirlo, quindi invito la cittadinanza ad aggiornarsi costantemente sui siti dei Comuni, su tutti gli strumenti di comunicazione che sono messi in campo, che ogni Comune ha messo in campo, da servizi WhatsApp, servizi Internet, Facebook, ma anche proprio i siti ufficiali dove trovate i documenti ufficiali. Purtroppo ci sono anche tante voci in queste fasi, ovviamente voci incontrollate, situazioni di panico o informazioni distorte e anche queste potete tranquillamente controllare che se sono vero o no, rivolgendovi ai Comuni e agli strumenti informatici dei Comuni dove sono pubblicati esclusivamente i documenti ufficiali e firmati. A tal proposito mi sento anche di tranquillizzare relativamente ovviamente a questo tipo di emergenza sull'operatività dei nostri due ospedali in cui vengono applicati tutti i protocolli previsti in caso di dubbio in cui i pazienti si possono rivolgere ai pronto soccorsi con eventuali dubbi di coronavirus vengono attivati tutti i protocolli, quindi dalla presa in carico fino al tampone. È molto importante e sottolino molto importante che chi ha qualche dubbio di essere venuto a contatto con persone malate dal virus oppure manifesti sintomi che potrebbero essere compatibili con quelli del virus non si recchi direttamente a pronto soccorso in maniera autonoma o direttamente dal medico, dal suo medico curante ma lo contatti oppure contatti il sistema 118. Questo perché ovviamente la gestione di pazienti con queste potenziali caratteristiche deve essere svolta in situazioni di sicurezza da parte del personale medico proprio per evitare poi che queste persone siano costrette a una quarantena che oggi purtroppo non ci possiamo permettere. Come ormai vedete, leggete sui giornali ma non solo, anche sugli strumenti informatici che sono molto più veloci, dobbiamo anche salvaguardare non solo i cittadini ma anche proprio il personale medico perché una quarantena di 15-20 giorni fa sì che quell'operatore sanitario non possa più svolgere la sua funzione per cui quello che chiediamo è la collaborazione di tutti l'accettazione di norme che sicuramente non fanno piacere a nessuno che però servono per un periodo speriamo il più limitato possibile a garantire poi quella socializzazione, quella socialità che il nostro Stato ne ha sempre caratterizzato appunto, le nostre comunità sono sempre state caratterizzate da un grande grado di socializzazione e di partecipazione sociale. Come amministrazione di Vergato ma non solo, in maniera coordinata con le amministrazioni degli altri comuni dell'Unione dell'Appennino e stiamo mettendo in piedi tutta una serie di servizi anche a domicilio per cercare di supportare da un lato le famiglie in difficoltà gli anziani, i soli eccetera ma anche per dare la possibilità di essere tutelati di poter applicare nella pratica le prescrizioni quindi uscire il meno possibile se la necessità di uscire c'è comunque di andare sempre in posti il meno affollati possibile mantenere almeno un metro di distanza uno dall'altro e lavarsi spesso le mani questo ormai direi che è stato detto in tutte le salse però non banalizzando mai ovviamente queste indicazioni sanitarie e in più farei un invito a tutti voi di far comprendere ai nostri ragazzi ai nostri bambini che giustamente hanno una percezione della vita sempre estremamente allegra e deve essere così però che la situazione è comunque seria quindi il non andare a scuola il non svolgere attività scolastiche non è in realtà un momento di gioia, di allegria ma è perché c'è comunque una pericolosità nello stare insieme, nel toccarsi nel stare all'interno di posti angusti o chiusi mi invito a questo ovviamente mantenete sempre e costantemente un contatto attraverso gli organi informativi e con i comuni perché le prescrizioni, l'evoluzione di questa emergenza richiede un quotidiano aggiornamento di quello che è opportuno fare o che non è opportuno fare grazie 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 grazie